Ciao ragazzi, ho letto un articolo fantastico sulla Harvard Business Review che voglio condividere con voi oggi dal titolo La crescita digitale dipende molto di più dai business model che dalla tecnologia stessa. Ora, al di là della provocazione, l'autore, che è Mark Johnson, vi lascio il link qui sotto nei commenti, sostiene che ci siano quattro, soprattutto, aspetti del business model che definiscano realmente il successo di un'azienda. Sono le risorse chiave e i processi chiave in ricordo del business model canvas, la formula di profitto e ovviamente la customer value proposition. Chiaramente Johnson ha degli esempi e l'esempio che porta è quello dell'anno del 2009, in cui molte aziende della Silicon Valley, tra cui Uber e Slack, hanno superato il miliardo di valutazione, non sulla base di una tecnologia proprietaria pazzesca, ma magari semplicemente del loro business model. Io, in questo caso, mi ritrovo d'accordo con Johnson e tante volte in cui sento le start-up e le nuove aziende, i nuovi progetti, sostenere che non hanno vantaggio competitivo per ragioni tecnologiche, la maggior parte delle volte mi cascano le braccia. Voi cosa ne pensate? Stop whining!